Veronica Nicotra, segretario generale del Lanci, quella che viene presentata oggi è una proposta di legge originale e importante. Ma perché? Perché Lancia ha un'idea, un'idea che assolutamente condividiamo anche alla luce delle esperienze degli ultimi eventi catastrofici che purtroppo hanno colpito l'Italia negli ultimi anni, cioè quello di avere una cornice unitaria di riferimento per avere certezza circa le misure successive, immediatamente successive ad un evento calamitoso, un terremoto che è da applicare immediatamente a favore ovviamente del tessuto economico produttivo e a favore dei cittadini. Credo che rappresenti anche una scelta, una decisione ai fini di garantire guaglianza a tutti i territori e guaglianza a tutti i cittadini. Lavoreremo insieme a Confindustria affinché quest'idea si traduca in norme da applicare. Le risorse ci sono per fare prevenzione, anche su questo è importante porre attenzione e spero che anche Confindustria insieme a Danci, insieme ai sindaci e richiami governo, Parlamento affinché la messa in sicurezza dell'Italia diventi una priorità e un'emergenza per tutti perché riguarda appunto la sicurezza dei nostri cittadini. Grazie.